14 morti e 10 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E' questo il conto che la montagna, complice l'imprudenza di un manipolo di temerari alpinisti, ha presentato nella giornata di ieri. Se da un lato le proibitive condizioni meteo non hanno lasciato scampo a chi, dalla Francia al Veneto, si è avventurato lunghe le cime del versante alpino, almeno sul nostro territorio il meteo inclemente ha invece scoraggiato gli appassionati d'alta quota. Il soccorso alpino in questi giorni non è infatti stato impegnato in operazioni di recupero per alpinisti o escursionisti trovatisi in difficoltà sui versanti delle nostre montagne. Nonostante tutto, anche sulle vette valtelinesi e valchiavennasche, il bilancio degli incidenti in quota durante la stagione invernale è generoso di sinistri e infortuni. Sebbene il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della settima delegazione valtellina e valchiavenna non abbia ancora a disposizione il numero esatto degli interventi eseguiti da inizio anno ad oggi, l'attività è stata, come ogni anno, intensa. Numerose le disgrazie, tra queste anche una mortale lo scorso 19 marzo a Livigno. La primavera, da prima unico periodo indicato per lo sci alpinismo in quota, è diventata invece il clou di una stagione che inizia persino con le prime nevicate. L'errore più frequente di chi decide di avventurarsi in montagna è quello di non prendere in considerazione le condizioni meteorologiche, spiega l'esperto di alpinismo Camillo Della Vedova. Spesso si vuole raggiungere la cima a tutti i costi, nonostante il meteo lo proibisca. In passato poteva essere più difficile conoscere i cambiamenti delle condizioni climatiche, prosegue, ma al giorno d'oggi non si hanno scusanti. Le previsioni sono sempre più precise, tanto da essere curate ora per ora. Seppur in questi ultimi giorni la situazione di pericolo si sia stabilizzata, oggi i previsori del centro nivo meteorologico di Bormio, Arpa Lombardia, attestano un pericolo di due moderato sulle Alpi Retiche e di uno sulla zona prealpina, l'allerta deve rimanere sempre alta. Durante le belle giornate, suggeriscono gli esperti, è meglio evitare di risalire e scendere i pendii durante le ore centrali della giornata, specialmente i versanti osposti a sud, anche quando il pericolo è basso.